Il mercato ortofrutticolo di Vittoria, unico in Italia a comunicare in tempo reale la mercuriale giornaliera con notevole risparmio di tempo ed in piena trasparenza. Tutto questo è stato reso possibile grazie all'app Vittoria Mercati e ai QR Code, di cui stamani si è parlato in conferenza stampa a Palazzo Iacono, sede del Comune. Basta avere uno smartphone con fotocamera e un lettore di codici installato scaricabile da Google Play o App Store. Basterà puntare lo smartphone sul QR Code ed avere subito le informazioni che servono. Siamo qui oggi per presentare le app su piattaforma iOS e Android e un QR Code che ci permetterà, l'unico mercato in Italia, di presentare in tempo reale a chiunque sul proprio smartphone le quotazioni della mercuriale che vengono rilevate tutti i giorni presso il mercato ortofrutticolo di Vittoria. Riteniamo che questa sia un'operazione di trasparenza e di sviluppo commerciale perché dare questo tipo di informazioni ovunque nel mondo può rappresentare anche un'opportunità per la vendita dei nostri prodotti.